benvenuti a tutto quando vuoi di e noi siamo la mamma benvenuti a tutto quando vuoi di lei è la mia mamma io sono Daniel ciao a tutti benvenuti sul nostro canale a tutto quando vuoi di lei ciao a tutti bentornati sul canale a tutto tondo vuoi di io sono valeria io sono daniel e siamo in una nuova challenge che si chiama bimbo do mia mamma spiegherà a voi che consiste in cosa consiste allora queste caramelle sono uscite anche in italia perché appunto l'italia ha copiato diciamo queste caramelline che vanno a coppia lo sapete molto bene come rischia il gusto challenge è praticamente identico solo una differenza io non ho la la ruota per girare e quindi faremo un po' a modo nostro sì perché non ci bastava la rischia il gusto challenge e noi dobbiamo comprare un'altra allora vi spiego cosa è successo queste caramelle ce le aveva mio marito dentro la sua macchina le ho viste oh madonna anche qua stanno forti pezzi calcolando che noi abbiamo fatto già un video di rischia il gusto io no che me la so sfilata però se oggi non mi tocca però per non perderci in piaccia ragazzi altrimenti poi passa troppo tempo sono le i gusci sono più o meno uguali quindi vi vado a leggere velocemente apriamo partendo da la mia sinistra quelle bianche sono il gusto buono è cocco e il gusto cattivo è spoiled milk quindi milk avaliato, caduto, cavia, viziato abbiamo quelle zalle con i funcini bianche, le pappacorn al burro oppure rotten head quindi il suo mangio quelle alla pesca, quelle arancioni con dentro cose rosse e vomito quelle verdi con pezzettini più verdi all'interno e succo di pera con le buone mentre quello cattivo è caccola guardiamo tutti i frutti è stinky stone cazzi no purtolente andando di qui dalla parte destra abbiamo sempre quelle arancioni però un po' più chiare e sono le strawberry banana e smoothie quindi una specie di brullato e non so quale far più schifo e quelle invece cattive e personali quelle blu le blueberry oppure l'identificio è questa più non accettabile e poi abbiamo le chocolate pudding, bowling, quelle marroni che sono cattivo che è di pupù, che è di pupù, che è di pupù, che è di pupù, aspetta il cattivo è cibo per cani, invece il chocolate pudding è cibo pudino a soprano poi abbiamo quelle che non si capisce che colore è, giallo arancione, schiato e caramel corso e poi moldy cheese, quindi formaggio a pupito, le ultime che sono quelle verde, visce senza niente dentro ne manca qualcuna, vabbè perchè mio marito le ha provate e pensava che erano caramelle normali e poi... e poi vabbè quindi non avendo la rotellina metteremo tutto qui dentro ecco, devo mettere io puzza oh che schifo ci siamo armati di pazzoletti bicchieri e acqua allora, prima di tutto mettiamo acqua dentro il bicchiere tu parti prima mia mamma lei l'ha scappata l'altra volta e io no ma scusa ma chi l'ha deciso sta cosa no mamma eh vabbè tieni il tovagliolo ok si mischiano no no allora no visto che non abbiamo la rotellina si prende insieme quindi che colore vuoi? bianco, giallo, arancione blu blu perfetto allora io prendo la blu questa qua e cerchiamo gli occhi no la blu prendi la blu ok qua davanti io sono armato di tovaglioli poi io spuso davanti a tutti prendiamola uno due tre vieni qua nell'inquadratura non fa il furbo uno due tre o blu o dentifriso dentifriso cosa non mi sta ahhh 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 che è schifo? mi sembra no oddio raga ma che è? altro che il dentifriso può essere accettabile cioè io ho paura voglio vedere l'arte come so ecco il dentifriso forte che che passa del capitano può essere che è schifo vabbè dai zero zero abbiamo sputato e ci ha sputato abbiamo trovato tutto tutto zero punti è schifo scelgo io il gusto adesso scelgo scelgo uno buono per favore metti il gusto io prendo il bianco no no il bianco no Dani non gridare prendi il bianco anche tu è schifo il bianco bianco è caduta da Dani me la recuperi per favore lì prendimela arrivo eh arriva ecco per farvi vedere che prendo sempre quello e non la cambio c'è il sapore di dentifricio è schifo allora 3 2 1 la bianca via dai questo deve sapere o cocco o cocco scusate o latte cioè latte capito via cocco cocco che buono 1 a 0 dai mi piace e che cazzo che cosa prendi? molto aspetta quale hai preso? o pesca o vomito o pesca o vomito che schifo ragazzi 3 2 1 3 2 1 dai dai oh no ah 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 si non è oddio noi no è 알 reacting non è che cosa dovete fare a casa? SCACCA A TEL che drodoso eh muocebremente alla salita si SCACCA A TEL dai tocca a me dai scegliamo un'altra queste gialline gialline sbiallite questa qua vedi gialli ok no no questa qua oddio no o è papa corn al burro non cambia non si cambia o uovo marcio 3 2 1 aspetta io sono un macchino mi devo prendere un macchino no per davvero non sto scherzando vai vai prima tu vai prima tu vai va bene mangia 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 ma stai prendendo ma che ci mettono dentro dai dai veri dai ve lo salmi giuro ragazzi io mi sono farsa pure il conto di 1 a 0 sempre 1 a 0 perché ho preso buon colui uffa dai prendiamo queste qua eh trocca a me schifo dai la verde ah ho cambiato verde ho preso queste qua eh ormai l'hai presa oh dio ti poggi in peggio o o caccola o succo di pera vabbè siamo pronti dai vieni qua ho paura sono armato sto scherzando ti prego 3 2 1 ti prego non mi ammazzare non mi ammazzare non mi ammazzare non potete capire è una cosa amicidiana ah si guarda questa presa quella buona ha preso il zucco di vera ok mito Basta dai Allora io prendo questa qua Prendi questa Tieni Falla vedere E questa è o lime O erba tagliata Vabbè dai Questa a volte è tranquilla La fa vedere Raga Questa qua Ok 3,2,1 Vai Che cosa è? Che cosa è? Che cosa è? C'è sempre sempre le colonate Quelle che è rossa, sapeva di favola, verde Che cosa è? Che cosa fa? Che mi vengono la verba Perché non sputi? Perché non fai la faccia? Oh sì, è verba Che schifo Che schifo Che schifo Ma che schifo Ma che schifo Basta Troviamo tutti i frutti Perché Siccome ne mancano alcune caramelline Perché La marita con gli amici suoi Pensava di mangiare cose buone Invece Pure lui Uno pari Allora abbiamo fatto tutti i gusti Raga Però dobbiamo fare una penitenza Una penitenza No, quale penitenza Mancano tutti i frutti Una penitenza Uno, due, tre Quattro ne mancherebbero Aspetta Questo c'è Dai Marrone Prendi questo qua Non ti faccio paura Questo è Questo qua Dead pig Un pesce morto Oppure Questo è più scuro Fai vedere No Quale è preso? No Questo Quello è Quello lì è pesca Quello di prima No Guardami come imbroglia Eccolo Questo Vedi Sono uguali Tieni Questo qua Fai vedere Soprattutto i caramelli strani Oh Faccio io Dai Faccio io Ok Guarda tu Oh Pesce morto O Strawberry Banana Dai Inizio prima tu No No Mi sono sempre io No 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 Prima tu No 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 Prima tu No No Prima tu No No Prima tu No Perché tu sei più grave Di me No Mangia Però questo non è Ma mangia No è pesce morto Mi rifiuto Mi rifiuto Mamà Ti do due punti Due a uno Tre a uno Tre a uno Mangialo due No Tre a uno Cioè ragazzi Sta veramente Ma perché non l'ha mangiato Ma Mangia due Anche sto scema Io scusa Stai soltanto sentire l'odore Ho aperto A parte che c'è O la mia E' schifo Ok Manca Sembra basta Proviamo quella rosa Io provo quella rosa Tocca me Tocca me Io provo quella rosa E quella marrone Abbiamo finito tutti i gusti mamma Tutti i gusti abbiamo finito Io provo quella rosa E quella marrone La marrone Dai E io questa rosa Dai No 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 Dai Basta Basta Rompi Rompi Ah metà di frutti No Ok Siccome che sono finito tutti i gusti Vedete Li abbiamo fatti tutti No Una no Sono rimaste Sì No Li abbiamo fatti tutte Allora Popcorn Cocco Di blueberry Ce ne sono una marea Queste verdi Giusto Succo di pera L'abbiamo fatto Pesce Ah Manca Caramel Eh ma non c'è Caramel Forse si Forse è questo No 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 E mancano le coppie Quindi facciamo l'ultimo Facciamo metà e metà Iniziamo con cibo per cani O cioccolato Cioè budino Dai vieni qua E cibo per cani Vuoi sentire Quale hai preso? Dai che se la mangi Vinci tu No Perché io sto a uno Tu stai a tre No io mi ripiù No ragazzi No Non la puoi fare No Sì va bene Dai Mettiamo insieme Manca Manca Prima Provera No O tutti e due Insieme o niente 3 2 1 Che schifo Per cani Fa schifo Che schifo Tu non l'hai proprio mangiata A me mi ha messo la mania Che schifo Io l'ho mangiata Quindi non va a nessuno A questo punto Dividiamo frutti Aspetta Dobbiamo fare la penitenza No aspetta La penitenza Non c'è penitenza Chi perde perde O tutti i frutti O calzino cucciolente Tieni No il calzino cucciolente No No il calzino No Così No 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 Cuccia di testina Passo No Scusa 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 Perché è una schiftezza Mamma mia Allora C'è una penitenza Non c'è la tua faccia No? Tu fai una penitenza E tu Cambi E metti Una foto Di un animale Voi lo scrivete Nei commenti Quale Animale E visto che io Sto a tre A tre Mia mamma Sto a uno Ho perso Lei ha perso E lei fa la penitenza Perfetto La penitenza è che nei commenti dovete scegliere Un animale Un animale E io dovrò fare una foto con la faccia di questo animale Quindi siate clementi perché ovviamente se per esempio dite un iguana Io non posso sapere come fare questa faccia dei guanti Se invece scegliete un cane o un gatto io scelgo l'applicazione e appunto mi ritrasformo da cagnolina Da gattina No 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 Quello lì non fa schifo Un iguana Ma è difficile Una cosa schifosa Ma non posso Per favore Sì 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 Non date retta Ma scrivete un animale con cui posso cambiare facilmente il polpo Quindi con le applicazioni Un fox Aspetta Poi magari la imbruttiamo Ok No 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 Non ti vedo eh Io ti vedo Sto facendo la mia risata Eh appunto mi preoccupa Ho fatto la mia È una risata Sì No vabbè Non la fa male No 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 Non la fa male Quindi Mettete nei commenti l'animale che voi volete E mettete Io metto la foto Che poi la pubblico Vediamo O faccio fare un piccolo video E eh Lo faccio uscire su youtube Così potete verificarlo E l'animale che verrà Insomma Declamato Quindi ha Detto più volte Lo sceglierò Insomma Cioè lo farò Ragazzi Ragazzi A tutti Devo dire qualcosa Un bacio Vi lascio Devo dire qualcosa Al prossimo video Ma Volete arrivare a 100.000 like? Per favore Vi Mio figlio Guarda avanti Non faccia il giro Oh Allora Magari 50 like No 50 Oh 100.000 like Ma 100.000 so troppe Non ci arriveremo mai Ma anche se Mi metto a parlare in tutte le lingue del mondo 100.000 like Ok Ragazzi Un bacio a tutti E tchau 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 Tchau